Oh Ciao raga, 18.02, sabato 18 novembre, sono Moco, buonasera a tutti Ciao Mattia Ciao Così a caso, Valeria è stato un piacere, ma sai che mi piace proprio che incontrarci così la domenica, anche se è sabato oggi, però la domenica mi piace di più, il sabato un po' di meno, la domenica però non so perché, forse perché mi ricorda la madonna, sai la domenica è...